Lo sport per me è molto importante perché dopo delle giornate dure di scuola e faticose mi serve per liberare lo sfogo e divertirmi insieme ai miei amici. Per me è molto importante perché ormai gioco da molti anni ed è diventata una parte fondamentale della mia vita. Ormai è routine andare agli allenamenti e stare con tutte le persone che mi sono intorno che sono praticamente come una seconda famiglia per me. Perché mi ha sempre dato i mezzi per riuscire a capire come meglio affrontare altre sfide al di fuori del campo ed è sempre stata una grossa occasione per tessere dei legami forti con altre persone. È uno sport che necessita molta disciplina, ci sono molte regole ed è comunque necessario organizzarsi anche dato che occupa molto tempo un'organizzazione tra studio e sport e comunque vita sociale e essendo uno sport di squadra ti insegna anche la collaborazione con tutte le compagne. Grazie. 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 Grazie.